Pfff, perché devo sclerare l'STP, ma siamo seri? Che veramente la gente continua a imbrogliare lo yellow con il sacred Marron Grazie Grazie a tutti. Vabbè, prima ho giocato su una GIMO, a questo punto penso erano arabi, non lo so. Ho doppiato uno su Viale, per fatti capire. Cioè, come cazzo fai a fatti doppiare su Viale? Non lo so. Ce ne vuole, eh? Allora non le vogliono mettere le combi di D. Poi vai la gente su Reddit, è su Reddit che si lamenta, che dice, eh, ma non vinco mai una gara. Fatti domande. Quando è il VR? 19? Ehm, sì. No, 11. 11? Ok. Andrò, c'è la gola che fa male. Può che fare questo altro fatto? Poi dobbiamo andare sul Discord a fare la chat perché vogliono parlare là. Ma perché non so cosa vuole dire? Wow, 228, un VR. Oh my god, I'm happy. Fai il video qui, alla fine metti i popi, i popi. Dov'è il gioco con la trombetta quando serve, cazzo? Se non mi sbaglio, l'ho salvato proprio tu. Cioè, ma ti rendi conto che devo fare pure l'app ora? Che non l'ho fatto, vabbè. Eh, spero, è l'app quando? Vabbè, stavate. Io mostro. Quelle, proprio, all'epoca, dico, quelle grippe dell'epoca. Eh, vabbè, non proprio io. Rimarrà nelle nostre menti, dammelo quella. Eh, ho salvato il Dio serpentassonogli di Simo. Quello non poteva mancare, cioè, vai. Oh, Gesù vuole il difficile provare. Oh, sì, apposta. Vuoi un challenge? Ti darò un challenge. No, non cadetevi sotto. Ok, guarda il 17, besti cazzi. Forse la mia strat non va bene. E' pare, adesso è tutto qui. Ok, guarda il 17, besti cazzi.